Oh, al primo colpo! Dove andiamo? Al mare! Sono qui da sola Ad aspettare, sto facendo la sauna E... Mi sa dove è andata a finire Io ho caldo Io ho fame Non sono 5 minuti Sì, guarda! Guarda il messaggio continuo della vacanza Il livello carburante sa Siamo arrivati? Che l'ultimo pezzo di video eravamo ancora in macchina Dimmi Io non vedo i colori delle stelle dei pianeti Cioè, sono puntini luminosi Sono puntini luminosi Cioè, la luce è luce Noi la vediamo? Un pochino Wow Allora no Tu lo stai uscendo? Chi è? Te lo stai uscendo? Uffa! Ma no! Io sono così illuminato e tu sei così buia Dai! Grazie a tutti